Inter di Cooper, formata da Toldo, Javier Zanetti, Materazzi, Cordoba e Gamarra a sinistra. Con Seisao di Biagio, Dalma e Imre, Crespo e Recobala davanti. Mancini e la sua Lazio con Peruzzi, Oddo, Negro, Couto e Favalli. Fiore, Simeone, Stankovic e Cesar davanti con Radielopez, Collina. Ventesima partita stagionale, 190 in Serie A. Buon inizio dell'Inter con Dalma che va alla cross sul frontoposto con Seisao. Il colpo di testa da parte della difesa della Lazio e poi ancora Dalma che cerca Crespo. Buon inizio dell'Inter abbiamo detto, soprattutto con Javier Zanetti e con Seisao che guadagna sulla scivolata di Favalli il cross e poi il colpo di testa di Crespo sul fondo. Primo a fondo della Lazio dopo 18 minuti ma è una carambola che quasi per poco non sorprende Toldo sulla carambola di Materazzi. Poi c'è anche questo sorriso di Collina con Simeone. Il match è sempre stato tranquillo per quasi tutta la sua durata. Poi ancora Crespo che prova lo stacco ma Peruzzi è molto attento. Qui c'è questo intervento di Favalli abbastanza netto sul pallone con Seisao accusa dei problemi alla ginocchia ma poi ritorna in campo. Ancora la Lazio, ancora Toldo con i pugni, ancora una carambola sulla testa di Javier Zanetti. Lazio che prova a riprendersi nel finale del primo tempo con questa prima palla-gol di Stankovic su cross di Lopez. Poi Recoba a cercare Gamarra, parte il cross a vuoto Crespo, poi Favalli bravissimo su Conseisao nell'area piccola. Siamo nelle battute conclusive del primo tempo. Ancora i centrocampisti dell'Inter che provano il tiro con Dalma e Peruzzi. E' attentissimo nel non farsi sfuggire il pallone. Poi al 42esimo punizione di Recoba. Negro lascia Crespo il gol dell'ex. Non esulta Crespo, 42esimo minuto, quinto gol in campionato per l'argentino, il numero 14 della stagione. Rivediamo ancora il colpo di testa in tuffo di Crespo. Mancini cambia nella ripresa, Simone Inzaghi per Cesar. Fiore va a sinistra. La Lazio che inizia benissimo il secondo tempo. Tre calci d'angoli consecutivi sul terzo Oddo verso Lopez e poi la respinta con i pugni di Toldo. E passiamo al settimo minuto quando rischia la seconda munizione di Biagio. Graziato in questo caso da Collina, Simeone ha un moto di protesta e lo fulmina Collina con lo sguardo. Poi fuori di Biagio, dentro Dani, sorpresa, Mediano davanti alla difesa. Ancora la Lazio che prova con Stankovic a questa azione sulla sinistra. Parte il cross di Favalli, lo stacco di Corradi e la palla che va molto vicino ai legni della porta di Toldo. Dentro Castromann per Fiore. Lopez torna a sinistra. E tutto Lazio in questa seconda parte del match. Ancora Castromann appena entrato. Parte il cross di destro. Non è il piede migliore per Claudio Lopez ma c'è Toldo che mette in calcio d'angolo. L'Inter è letteralmente schiacciata. Ancora Couto, vedete i saltatori della Lazio. Con Stankovic che va a toccare in caduta e la palla che finisce sul palo. Poi Scaramucce fra Materazzi e Simone Zaghi. Le vedremo anche meglio al Moviola. Collina tollera tutto questo. Semplicemente una ramanzina in campo per i due. Poi Materazzi fuori dal campo per qualche minuto. Riesce a ritornare però in partita. E ancora una volta su questi calci d'angolo la Lazio. Si fa pericolosa con Toldo. Comunque sempre attento. Poi al 27esimo fuori Martins per Recoba. E passiamo al 31esimo minuto con Cooper che strilla. C'è questo calcio di punizione da parte di Oddo. Fra i migliori questa sera a festeggiare la sua convocazione nazionale. Parte il cross. Sbuca Simone Zaghi. Anticipa Cordoba e dà il gol dell'1-1. Il terzo gol in campionato per Simone Zaghi. Bravissimo nel cogliere la giusta scelta di tempo sul cross perfetto di Oddo. Gol dell'1-1. La fatica di Coppa per la Lazio decisamente non si sente. Prova l'Inter adesso a lasciare l'assedio con Seisao. Tiro battuto da Negro. Poi ancora verso Crespo che riesce a girarsi. Seppur a fatica ma il sinistro è debole la parata di Peruzzi. Siamo intorno al 35esimo minuto. Un sussulto da parte dell'Inter con Emre. Va a vuoto Crespo. Poi Dalmai. Il destro da fuori. La palla che non va molto lontano dalla porta di Peruzzi. Siamo ancora al 37esimo minuto. Parte il cross. Osservate Castromann. E Toldo che lo aspetta. Lo ipnotizza. E riesce a mandare in calcio d'angolo. Lazio che in sostanza chiude per il decimo anno in battuta a San Siro. Meno otto l'Inter dalla Juve. Più quattro dal Milan. Lazio in crescita nella ripresa. Inter meglio nel primo. Poi rattoppata decisamente nella seconda parte della gara. A te. Grazie.